E prima dei saluti vi ricordo che domani pomeriggio alle 18 in diretta streaming puntata finale del nostro talk show giornalistico sportivo Io resto a casa, ci sarà da parlare tantissimo. Nella prima parte la ripartenza del campionato di calcio di Serie A e le emozioni del racconto calcistico, ospite Riccardo Cucchi, ex voce di tutto il calcio minuto per minuto, autore di due libri, clamoroso Alcivali, tutto il calcio quando la radio diventa storia e radiogol 35 anni di calcio minuto per minuto. Nella seconda parte dalle 18.20 alle 18.40 spazio e focus sul calcio dilettante fra difficoltà e ripartenze, ospiti da Foggia Rino Palmieri ed in collegamento Francesco Zegria responsabile stampa dell'audaceo Cerignola. Naturalmente a tutti gli ospiti che avete sentito potete porre le vostre domande sotto la nostra diretta streaming sulla pagina personale del sottoscritto a partire dalle 18 di domani pomeriggio. E' tutto per questa edizione di Diario Sera, le notizie che troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, Youtube e Twitter. Prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina alle 9 con Weekend Sabato. Buon proseguimento di serata a tutti.